Sport e solidarietà a Caserta, una 10 chilometri di corsa organizzata dalla brigata Bersaglieri Garibaldi ha chiuso due giorni di iniziative per sostenere la Caritas. Nello di Costanzo. Un successo alla ventesima edizione della Flick Flock al villaggio Cremisi di Caserta. La due giorni di sport culminata con la corsa podistica di 10 chilometri organizzata dalla brigata Bersaglieri Garibaldi dell'esercito italiano. Accanto alla maratonina tante altre discipline sportive, molte delle quali rivolte ai diversamenti abili. Un villaggio Cremisi aperto a tutti, anche ai ragazzi e ai giovani con disabilità e alla solidarietà. Il ricavato di fatti delle iscrizioni andrà in beneficenza per sostenere la Caritas di Caserta. A vincere la gara podistica nella categoria maschile è stato Jacopo De Marchi, trionfo invece di Elisa Palmero tra le donne e entrambi del centro sportivo esercito. È stata una 10 chilometri emozionante arrivare con le braccia alzate qua alla regia di Caserta e farà anche un ottimo tempo, 30 minuti e 30 secondi, comunque in un percorso non semplicissimo, abbastanza duro, però mi sono divertito e spero di tornare anche il prossimo anno. Una bellissima manifestazione, ho corso in poco più di 34 minuti e vincere in un contesto così della regia di Caserta è stato ancora più gratificante. Caserta voleva la Flick Flock, abbiamo fatto la Flick Flock, siamo pronti per il campionato italiano, l'anno prossimo chiederemo e organizzeremo il campionato italiano, 10 chilometri su strada.